Siamo con il vincitore del primo Main Event targato ISOP di questa stagione, Main Event ricordiamo su due giorni completamente freeze out, Izet Osmanovic, chiediamo al forte player sloveno com'è andata questa due giorni di poker omaka qui al Casino Perlo ha detto che gli piace molto la struttura perché è una struttura che ti conviene di avere molti big blind a disposizione quindi non ti costringe a giocare tutte le mani, quindi operare o giocare un poker easy quindi in pratica scegliere le mani con cui entrare è una struttura veramente ok Grazie, Izet, e buona fortuna!